ascia di emergenza della miltec è un ascia medio pesante in quanto abbiamo un peso intorno gli 850 grammi a una protezione in polimero sulla parte anteriore dell'ascia che serve per poterla inserire in uno zaino una custodia senza dover subire tagli o lesioni dei materiali che sono messi vicino la parte in gomma è morbida si toglie molto facilmente a una parte collosa che si può togliere con un po di benzina questa scure ha una manicatura arancione alta visibilità e un passante sulla manicatura dove è inserita una piccola catenella dove si può appendere un etichetta un cartellino per segnalarne l'utilizzo la provenienza la 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 proprietà di qualcuno l'impugnatura da una parte anteriore è gommata antiscivolo ha dei fori ed è sagomata in maniera ergonomica ha un utilizzo molto costante per cui non stanca la mano la la parte della lama come vedete molto pesante molto massiccia a un notevole spessore questa parte sigillata saldata nella manicatura che è in polimero in polimero pieno molto resistente fibra di nylon a occhio si affila molto bene perché poiché di semplice affilatura è un po pesante da portare con nello zaino ma potrebbe essere un ottimo un ottimo rimedio per tanti usi da mettere su un fuoristrada su un'auto da portare come ascia d'emergenza